Un buongiorno a tutti, questo oggi è il primo episodio del corso di HTML, ne avevo già fatto uno sul canale qualche annetto fa, ho pensato di rifarlo, quindi per andare a suddividerlo in più video anziché un unico video, magari riuscire a portare più roba, cambiare la documentazione di riferimento, quindi sono su developer Mozilla, seguiremo questa, che vi metto sotto il link e direi che possiamo partire subito. Allora, oggi guarderemo velocemente come funziona il web e ci prepariamo a lavorare con HTML, quindi dal prossimo episodio guarderemo effettivamente cos'è HTML e poi partiremo appunto a vedere tutto quello che ci interessa. Però questo video è importante, se non avete mai lavorato col web, mai programmato, mai fatto niente, questo video è importante, se già siete pratici potete tranquillamente andare oltre. Allora, cos'è il web? Questa semplice immagine lo spiega abbastanza bene. Abbiamo il browser, che non è altro che questo, ok? Quindi Chrome, Mozilla, Safari, quello che volete. Vi connettete a un sito, in questo caso io prendo questo link, anzi faccio semplicemente invia, quindi sto mandando, facendo invio, ho appena fatto una richiesta HTTP al server. Il server mi ha risposto con una pagina, ok? Una pagina che ha un header qua e un contenuto. Il contenuto è scritto in HTML, appunto, ecco perché siamo qua a studiarlo, il contenuto viene letto dal browser e viene mandato a schermo. Quindi la pagina che stiamo vedendo, se facciamo F12, questo insieme di tag che possiamo aprire sono quasi infiniti, altro non sono che una serie di informazioni, soprattutto qua nel body, che ci dà questa pagina. Nell'header poi, come vedremo, abbiamo le informazioni per il titolo qua in alto, abbiamo lo stile, effettivamente, quindi i colori, in alcune parti, eccetera, e andremo tutto a vedere. Comunque questo è una pagina HTML che ci viene mandata dal server e questo è il web in soldoni, punto. Quindi quello che noi andiamo a fare è come si fanno pagine web. Allora, per fare HTML in realtà, io potrei benissimo cominciare da un file di testo, letteralmente. Quindi io potrei aprire un txt, aprire questo txt e scrivere HTML, chiudo HTML, apro body. Per ora voi non concentratevi su quello che sto scrivendo, ma sull'insegnamento che c'è dietro. Quindi chiudo body, faccio letteralmente h1, chiudo l'h1, chiudo qua e scrivo ciao dal file di testo. Io salvo, non solo salvo, ma lo salvo con nome. E lo salvo in questa cartella come index.html, poi capirete perché, in realtà posso chiamarlo come voglio, ma per abitudine. Quindi ho appena creato un file index.html, lo vado ad aprire, me lo apre con edge, quindi io ve lo sposto su, ve lo sposto qua. Vado qui, metto il link del file, come potete vedere, ciao dal file di testo. Quindi abbiamo appena fatto una pagina HTML letteralmente da txt. Poi l'abbiamo salvata come HTML, ma capite che voi potete tranquillamente, tasto destro, apri con, blocco note, avete il vostro index, quindi ciao dal file di testo modificato. Salvo. Torno. Rimetto dentro. Perfetto, ciao dal file di testo modificato. Come potete vedere, si può tranquillamente lavorare anche in un txt. Perché non lavoriamo nel txt? Perché non è un programma fatto per poter lavorare con la programmazione, quindi non abbiamo le righe, non abbiamo tante estensioni utili, tanti controlli sulla sintassi, insomma non abbiamo niente. Per aiutarci a lavorare, di conseguenza quello che andiamo a fare è scaricare vsc, che sarebbe Visual Studio Code. Eccoci qua. Download Visual Studio Code, scaricatelo per il vostro sistema operativo. Scaricate, siete a posto, che cos'è Visual Studio Code? Eccolo qua. Questo è un IDE, quindi un programma che ci permette di scrivere codice. Ok? Visibile, interessante, vediamo se mi l'aggiorna. Perfetto, non mi prende quei file, quindi li prendiamo direttamente da qua. Prendo l'index, lo butto dentro. Come potete vedere, faccio sufficiente Alt-Myus-Caf. Vedete che mi ha già sistemato, vedete me l'ha sistemato, mi dà le righe, mi dà i colori. Quindi, se modifico qua, dovrei avere già i plugin, vedete che mi ha sistemato questo direttamente. Se evidenzio questo, mi evidenza la chiusura dell'elemento. Per ora non basatevi su questa terminologia. Guardate il semplice fatto che mi aiuta a capire tante cose. Ok? Quindi questa cosa, vedete, solo scrivere questa cosa qua mi dà tanti aiuti. Questo è il motivo per cui usiamo programmi come VSC. VSC, vi ripeto, è gratuito. Potete aggiungere poi delle estensioni tipo AutoClose Tag, AutoRename Tag. Quindi ve li vedete, AutoClose, AutoRename. Un'altra cosa che ci può servire è Live Server. Quindi Live Server. È questo qua. Lo installate. AutoClose Tag, AutoRename Tag. Sono utili perché, vedete, AutoRename è questo. Ok, ci permette di chiudere automaticamente. Se invece faccio H1, vedete come l'ha chiuso automaticamente. Piccole estensioni che ci aiutano nel lavoro di tutti i giorni. Che possono sembrare cose inutili e stupide. Ma se vi rendete conto che scrivete centinaia di righe di codice al giorno, insomma, avere un secondo di qua, un secondo di là, se lo vuoi fate per 100 volte, sono 100 secondi. 100 secondi è un minuto e 30. Lo fate per tutte le volte che lavorate. Alla fine risparmiate in giorni di lavoro ore. ad evitare di chiudere i tag e altre cose. Poi tutte queste shortcut le vedremo in un video a parte. Quindi niente, questo è VSC. Abbiamo visto come funziona il web. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove cominceremo a parlare di HTML. Quindi con la documentazione. Direi che possiamo andare avanti. Ok, cominciare con l'HTML. Cominceremo a parlare dell'HTML. Quindi questo è un piccolo sneak peek di quello che vedremo. Io vi aspetto al prossimo episodio. Fatemi sapere qualsiasi cosa nei commenti se avete bisogno o altro. Io vi ringrazio. Alla prossima. Ciao ciao.